Non solo un concerto ma un vero e proprio momento di autentico raccoglimento mistico in preparazione della Santa Pasqua. L'associazione Voci in Canto ha voluto omaggiare la città della Coralità e del Polifonico con l'esibizione nella cappella della Madonna del Conforto, ad introdurre con parole di benedizione l'omaggio musicale dei 50 piccoli grandi artisti è stato Don Alvaro Bardelli, parroco della cattedrale. Un concerto meditazione dedicata alla figura di Maria che è sempre noi tanto vicina in un ambiente che è la cappella della Madonna del Conforto, quindi per noi un grande onore stasera. Parleremo tramite la musica, pregheremo tramite la musica proprio della figura di Maria in questo momento molto difficile, nella sua sofferenza quando vede morire suo figlio però con la speranza e la sicurezza che lui risorge. Noi vogliamo esprimere proprio questo, insomma il suo dolore ma anche la sua gioia, la serenità che dà sempre a noi come genitori, come istruttori e anche ai ragazzi. E poi l'adorazione della croce, siamo nella settimana santa, il titolo infatti del concerto è proprio Adoramos Crucentuam e abbiamo proprio un brano dedicato a questo, quindi tematiche comunque difficili da fare anche con dei ragazzi così giovani, però siamo riusciti, insomma spero a trasmettere questo a tutti loro. Per loro è sempre un'esperienza nuova, comunque propongo sempre repertori molto vari, chiaramente questo è un repertorio più impegnativo e meno ludico logicamente, però insomma l'hanno accolto sicuramente bene capendo nello spirito e spero che stasera riescono a trasmettere tutto ciò che sicuramente loro hanno nel cuore.